Buongiorno, sono Diakite Mozibo, sono il difenso centrale della Lazio. Sono venuto qui circa 5 mesi fa perché avevo un uso muscolare. Ho lavorato prima per rinforzare il muscolo, per arrivare alla pari dell'altra gamba. Poi ho lavorato in campo e mi sono trovato benissimo. Qui si lavora bene, sono stato seguito bene e ringrazio Liseo Kinetic.